Oltre 11 miliardi di euro di investimenti nel solo 2010, abbattimento di tasse, costo dell'energia e costi di produzione, i Balcani rappresentano un'area di naturale interesse per l'Italia e per la sua economia in considerazione della loro collocazione geografica e della loro vicinanza culturale e la Puglia occupa un posto privilegiato nei rapporti con i Balcani. Di internazionalizzazione e necessità di allargare gli orizzonti di investimento delle imprese si è parlato al convegno organizzato nella sede barese di Confindustria dal titolo Obiettivo Balcani, l'Italia al centro della nuova Europa. Noi abbiamo attualmente una crisi generalizzata, i mercati locali tirano poco per cui bisogna assolutamente pensare a non rimanere qui focalizzati ma bisogna allargare gli orizzonti, non solo, bisogna anche essere presenti lì dove serve il prodotto. Ai saluti istituzionali di Michele Vinci, presidente di Confindustria Bari e Batte, di Donato D'Agostino delegato all'internazionalizzazione di Confindustria Puglia, è seguito l'intervento di Luigi Salvadori, presidente di Confindustria Balcani, una federazione di più di mille imprese italiane costituita a ottobre 2010 che riunisce sei paesi, Bosnia, Erzegovina, Bulgaria, Macedonia, Repubblica Moldova, Serbia e Romania e dentro il 2012 si allargerà Croazia e Albania, investire nei Balcani come strategia per salvare le aziende dalla crisi. L'internazionalizzazione è da un punto di vista produttivo e da un punto di vista commerciale e quindi serve sia a salvaguardare la produzione delle imprese che comunque possono mantenere una parte in Italia e comunque incrementare la testa, il cervello, quelli che sono i piani strategici all'interno del territorio nazionale e inoltre poter affrontare anche mercati che prima non si potevano affrontare, dati magari dei costi troppo elevati.